Ciao a tutti, commentiamo la soluzione di questi due esercizi sulle circonferenze. Il primo esercizio dice di determinare l'equazione delle rette tangenti alla circonferenza, questa qua, x² y² 10x 6y24 uguale a 0, che passano per l'origine degli assi. Evidentemente le tangenti sono due, parla al plurale il testo, quindi il punto O, l'origine degli assi, è un punto esterno alla circonferenza e da un punto esterno alla circonferenza è possibile tracciare due rette tangenti. Comunque andiamo pure a controllare che O sia un punto esterno, quindi questa è l'equazione di gamma della circonferenza. Andiamo a calcolare centro e raggio, quindi basta fare meno 10, cambiamo segno e dividiamo per 2, il 6, cambiamo segno e dividiamo per 2, quindi viene il centro 5 meno 3. Per calcolare il raggio basta fare 5 al quadrato più meno 3 al quadrato, che viene 9, meno il termine noto presente nell'equazione della circonferenza, che è 24. Quindi viene radice di 10. radice di 10 è ovviamente maggiore della distanza del punto C, il centro dall'origine, e quindi se il centro C è maggiore, la distanza del centro C dall'origine è maggiore del raggio, allora O è un punto esterno. Quindi le rette tangenti che passano da O sono due. Andiamo a vedere come si calcolano. Allora, basta far sì che la retta che passa da O e la circonferenza abbiano tra di loro un solo punto in comune. Questo vuol dire che il sistema tra la circonferenza e la generica retta passante per O ha il delta nullo. Attenzione, il delta del sistema non è... non bisogna risolvere il sistema, ma mettendo l'equazione della retta tangente all'interno della circonferenza viene fuori un'equazione di secondo grado, questo deve avere delta zero. Quindi andiamo a vedere. Quindi prendiamo la retta passante per O, questa è la generica retta passante per un punto, A x zero ed y con zero ci mettiamo zero zero, quindi viene y uguale a mx, e questa è la generica retta passante per O. Questa la dobbiamo mettere, la dobbiamo sostituire alla y dell'equazione. Quindi, e poi dobbiamo fare il delta di questo sistema uguale a zero. Quindi una volta sostituito, io ho questa equazione che con le messe in evidenza opportune si ottiene quest'altra. Quindi, come vediamo, è un'equazione di secondo grado, quindi ho raccolto x quadro qui e x tra questi due termini, e questa equazione deve avere il delta uguale a zero. Verrà fuori una nuova equazione di secondo grado, questa volta in m, che risolta, quindi b quadro meno 4ac, oppure usare il delta quarti, ma non cambia nulla, se io faccio b quadro meno 4a per c, ottengo questa equazione, quindi b quadro meno 4a per c, deve essere zero, viene fuori una nuova equazione di secondo grado in m, che risolta, mi dà i due valori di m, e che rappresentano i coefficienti angolari delle due rette tangenti. Quindi le due rette tangenti hanno l'equazione y uguale a meno 1 più o meno 4 radice di 15, quindicesimi per x. Andiamo a vedere il secondo esercizio che dice questo, dice di trovare l'equazione della circonferenza passante per questi due punti e avendo il centro sulla retta x più 3y meno 9 uguale a 0. Schematicamente la situazione è questa, ho una circonferenza, ho due punti sulla circonferenza, questa è una generica retta passante per il centro, c è il centro, gamma è la circonferenza, come faccio a determinare la circonferenza? Allora, se il centro appartiene alla retta r, le sue coordinate soddisfano l'equazione x più 3y meno 9 uguale a 0. Quindi fissato y, per esempio, che è più facile, la x si determina portando il 9 e il 3y dall'altra parte. Quindi, se x è uguale a 9 meno 3y, il punto sulla retta generica avrà coordinate 9 meno 3y, ecco, come facciamo a determinare y? Imponendo la stessa distanza da c ad a, cioè se c è il centro e b sono due punti della circonferenza, allora ac e cb sono uguali perché corrispondono al raggio. Quindi, basta scrivere che ac uguale a r uguale bc, poiché nella formula della distanza ci stanno le radici, lavoriamo con i quadrati, quindi ac al quadrato uguale bc al quadrato. Quindi, scriviamo i due punti a, b e c, eccoli qua, e facciamo le distanze al quadrato. Quindi, la x di c meno la x di a al quadrato più la y di c meno la y di a al quadrato. Eccolo qua. Questo deve essere uguale alla y di c meno la x di c meno la x di b al quadrato, la y di c meno la y di b al quadrato. Quindi, essendo meno 1, cambia segno. Svolgendo questa, e quindi qua abbiamo 9 meno 1 fa 8, qua rimane 5, 9 meno 5 fa 4, e qua rimane questo. Praticamente, che succede se io svolgo questo? Che è, trovo la y, cioè trovo la y del centro, cioè trovo la y del punto P che sta su questa retta, equidistante da A e da B. E quindi, trovo y. I passi successivi quali sono? Una volta trovato y, trovo il centro. Basta sostituirlo qua. Una volta trovato il centro, trovo il raggio. Come lo trovo il raggio? Facendo la distanza CA. Dopo che ho trovato il centro e il raggio, trovo gamma. Quindi, andando a sviluppare tutti questi quadrati di binomio, si ha y uguale a 2, quindi metto questo 2 nelle coordinate del centro e ottengo il punto 3,2. Faccio la distanza tra C ed A per trovare il raggio, quindi è 3-1 al quadrato più 2-5 al quadrato. Quindi mi viene radice di 13. Come si trova l'equazione della circonferenza? x-x con 0 al quadrato, y-y con 0 al quadrato, dove x0 e y con 0 sono le coordinate del centro, uguale a r quadro. r quadro è 13, essendo r la radice di 13. Quindi questa è l'equazione della circonferenza. Un saluto a tutti.